Riparte scuola d'impresa, la scuola per gli artigiani dove gli artigiani possono imparare cose nuove che non riguardano la loro professione ma approfondire quei temi che sono trasversari a quello che è la nostra attività Riparte, riparte grazie a Confartigianato che organizza tre serate di approfondimento per gli imprenditori Tre appuntamenti molto importanti con il relatore di alto livello Cominceremo con Paolo Crepè, proseguiremo con Rudy Bandiera e andremo a concludere le tre giornate con Riccardo Vesta Gli argomenti saranno trasversari perché parleremo dall'amore per la nostra impresa che magari ci può trasmettere Paolo Crepè Parleremo del brand con Rudy Bandiera e andremo ad affrontare i nuovi canali di promozione YouTube con Riccardo Vesta Ti aspettiamo quindi il 14, 15 e 26 marzo qui Confartigianato Arezzo via Tiziano 32, non mancare Grazie a tutti